Warren Buffett, soprannominato oracolo di Omaha, è considerato uno degli investitori più grandi al mondo. Il suo fondo di investimento gestisce più di 100 miliardi di dollari ed è uno dei più solidi e profittevoli nel settore finanziario. Warren Buffett non è solo un investitore di successo e una delle persone più ricche del pianeta, secondo la rivista Forbes, ma è anche un considerevole filantropo. È noto per la sua promessa di donare il 99% del suo patrimonio per cause filantropiche ed ha già donato più di 30 miliardi di dollari alle varie azioni benefiche in vari paesi. Nel 1956 Warren Buffett ha cominciato ad acquisire, con un capitale di poco più di 105 mila dollari, le azioni di Berkshire Hathaway, una produzione tessile senza profitti, che col tempo è diventata l'azienda principale per la gestione delle finanze, che oggi gestisce più di 250 miliardi di dollari. Per l'abilità nella gestione dei soldi e la capacità di vedere e anche di prevedere le attività profittevoli, nel linguaggio finanziario è entrata la frase «Il metodo Warren Buffett», che si riferisce ai grandi successi finanziari dell'investitore. Robert G. Hagstrom ha analizzato in dettaglio cosa c'è dietro il metodo Warren Buffett. In questo audiolibro l'ascoltatore scoprirà Quali sono i 12 paradigmi alla base della filosofia del lavoro di Warren Buffett? Qual è la psicologia che sta dietro ogni decisione finanziaria dell'investitore? Come la sua vita privata ha aiutato la sua formazione professionale? La prima edizione del libro di Robert G. Hagstrom è subito diventata un best-seller secondo la rivista New York Times e sono state vendute più di un milione di copie. A cosa si devono i risultati assolutamente unici di Warren Buffett? Secondo me, i punti cruciali sono i seguenti. Ha una mentalità flessibile L'importanza di essere guidati da una determinata filosofia di vita non vuol dire che non la si debba cambiare mai. Adattarsi a circostanze significativamente diverse può essere di certo consigliabile e, anzi, ci si potrebbe persino imbattere in una filosofia di vita nuova di zecca. Il punto cruciale è capire quando cambiare e quando proseguire per la propria strada. All'inizio della sua carriera, Warren adottò l'approccio del suo maestro, Ben Graham, detto di Deep Value. Acquistare beni di scarso valore quando questi vengono ceduti, specialmente quando è possibile acquisire aziende a un prezzo inferiore alla loro liquidità netta. Per questo venne spesso deriso per aver raccattato mozziconi di sigaretta. Dopo un po', su pressione del suo socio, Charlie Munger, scelse di dare maggiore importanza a società più prestigiose, se protette da fossati e con un pricing power elevato, cioè con una certa libertà nella determinazione del prezzo di vendita, dirette da grandi personalità e acquisibili a prezzi ragionevoli, ma non necessariamente da liquidazione. Un aspetto tipico dell'approccio di Warren fu a lungo quello di stare alla larga da società che richiedevano interventi di grandi capitali, ma fu capace di superare questo suo pregiudizio per acquistare la società ferroviaria Burlington Northern Santa Fe, non appena fu chiara la sua debolezza economica all'indomani del collasso finanziario del 2008 e basandosi su prospettive di aumento della domanda per il trasporto ferroviario. Una filosofia deve fornire una guida, ma non deve essere rigida. Come molte altre cose in tema di investimenti, si tratta di un dilemma difficile da gestire. Warren non si sottrae alla sfida, a modo suo. Non gli interessa assecondare ogni nuova moda del momento, ma al tempo stesso non permette ai propri atteggiamenti mentali di farlo restare fermo al palo. Buongiorno Buongiorno Buongiorno